Il lupo fa paura ma la convivenza è possibile, esperti a confronto per gestire il ritorno di questo predatore dopo quasi un secolo nel parco di Montevecchie della Valle del Curone. Nel tardo pomeriggio di martedì, dopo che nei giorni scorsi è stata sbranata un'altra pecora, si è tenuto l'incontro online organizzato dal parco a cui hanno partecipato il presidente Marco Molgora, i tecnici e volontari dell'ente, funzionari di Regione Lombardia e di Ersaf, il comandante della stazione dei carabinieri forestali di Lecco e diversi allevatori attivi nel territorio culinare del parco in rappresentanza di circa 10 aziende. Agli allevatori sono state illustrate le attrezzature e le strutture di protezione dagli attacchi del lupo messi a disposizione dalla regione, oltre alle polizze assicurative per il risarcimento dei danni subiti. Laura Cucè di Regione Lombardia e Lucieratti di Ersaf hanno illustrato l'attività ribadendo la disponibilità a supportare gli imprenditori agricoli. Francesco Bisi dell'Università dell'Insubria ha illustrato la situazione della presenza del lupo in Lombardia, ultima regione del nord in cui è in corso una parziale colonizzazione, anche se ancora con numeri ridotti, e ha tratteggiato la biologia e l'etologia di questo animale. Numerose le domande degli operatori, è stata anche più volte richiamata la necessità di una maggiore attenzione per quanto riguarda i cani e l'obbligo, già previsto dalle leggi, di tenerli legati durante le passeggiate nei boschi. Prevista breve anche l'organizzazione di un'iniziativa pubblica di comunicazione ai cittadini sul ritorno del lupo e le regole di comportamento.